Alessio Marchioli, organizzatore del torneo Costa dei Trabocchi, unire l'immagine di questa perla dell'Abruzzo al calcio, come nasce l'idea? L'idea nasce per valorizzare il forte sentimento sportivo e il nostro territorio, quindi valorizzare i giovani, l'integrazione e il turismo della nostra bella città, dei nostri bei posti. Il torneo sarà un torneo nazionale approvato dalla FIGC, vedrà la partecipazione delle migliori squadre nazionali, tra cui l'Inter, il Napoli, il Bologna, la Salernitana, Bari, Pescara ed Ortona e il Lanciano che sono le squadre locali del nostro territorio. La Costa dei Trabocchi è ormai un brand affermato e con questo torneo vogliamo far sì che ci sia anche lo sport al suo interno. Una bellissima manifestazione che darà lustro alla nostra città, per questo dobbiamo sicuramente ringraziare Alessio Marchioli e Antonio Gialloreto, che sono i due organizzatori di questo bellissimo evento. Per poter poi presentare questo primo memoria al Costa dei Trabocchi a fine mese, che si terrà a Ortona, San Vito e Fossaccio e sarà sicuramente una bellissima vetrina per il nostro territorio. Mauro Esposito, perché hai creduto in questa iniziativa? Ma intanto è perché è sempre bello partecipare a tornei, eventi con i ragazzi, soprattutto a questa età dai 13 ai 14 anni. È un'età dove bisogna far capire appunto ai ragazzi che non è soltanto più divertimento, ma anche cercare di fare professionisti. Luca Di Matteo, quali sono le difficoltà che incontra un ragazzo per diventare un giocatore professionista? Sicuramente è un percorso molto difficile, bisogna fare tanti sacrifici perché purtroppo lo richiede. Vengo da un settore giovanile come quello del Pescara dove comunque si lavorava bene, c'era molta meticolosità, cosa che adesso in questo momento si fa un po' di meno. Si guarda più all'apparenza, più al far vedere l'immagine, però non si guarda più al lavoro, al curare tutti i particolari. Quindi sono piccolezze che per me fanno la differenza e che in questo momento sono state un po' trascurate. Grazie a tutti.